ciao a tutti bentornati in questo video e oggi ricopriamo il 12 al 13 che oggi è santa lucia ci abbiamo anche la nutella con le limite di sion della fuggita vabbè te l'hanno fatto in tv no si l'hanno fatto in tv che dici ai diti è il sottomilica bello che lo parto prima forse per fargliela aprire ma non ti apete mi è caduto per terra no mi è battuto qua vabbè lo cerchiamo dopo noi ci vediamo come sempre ai prossimi video ciao ciao